Siamo con mister Zuffanti dell'Atletico Genova, una vittoria pesante, dimmi un po' le tue pressioni al comitato sulla partita. La partita è stata fattata correttamente, indubbiamente abbiamo incontrato una squadra che secondo me poi fa del gioco la sua forza, la sua virtù, noi siamo stati bravi. Oggi abbiamo giocato una grande partita, è vero che oggi è stata un'espulsione, la squadra è rimasta in dieci, però non abbiamo molato sull'1-0, siamo andati sopra e non abbiamo smesso di giocare. Questa è importante, questa è la categoria qua, stiamo bene, siamo in saluto, c'è da continuare a fare questo tipo di lavoro che secondo me porterà dei bensi. Andiamo adesso, siete nelle zone alte della classifica, un pensierino per salire lo fate direttamente? No, il pensierino è ben chiaro, sono molto qua, i ragazzi ho sempre detto, sono molto qua per cercare di vincere il campionato, deve essere chiaro, perché sennò diventa difficile. Poi è chiaro che è normale che lo vince una squadra, ma noi dobbiamo essere lì, andare a vincere, provare a andare a vincere. Poi ci sono le apparizioni, ci sono le vecchie cazze, sono tante squadre, così sono un po' incrociato, il bel gatto che incontreremo, ma noi dobbiamo essere lì, sennò diventa... non c'è un obiettivo. Ok, ti ringrazio, ciao e complimenti ancora. Ciao, grazie.